La maggioranza di Brugnaro e della destra in Consiglio Comunale ha fatto un atto gravissimo, ha bocciato la proposta delle opposizioni di creare una commissione di indagine in merito allo stato delle nostre strade e degli edotti dei ponti. La proposta di istituire una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade del Comune di Venezia è stata respinta da Caffarsetti. Partendo dal terribile incidente del cavalcavia di Maestre, Monica Sambo, prima firmataria della proposta di delibera sottoscritta da tutti i capigruppo di opposizione, aveva chiesto la possibilità di approfondire la situazione della rete viaria e del piano delle manutenzioni programmate dal Comune. È gravissimo questo fatto perché non solo non permette a noi consiglieri di fare appieno il nostro lavoro e quindi di verificare quale sia lo stato delle strade e anche eventualmente decidere quali siano le priorità da seguire, ma dall'altro non si garantisce la sicurezza e la tranquillità anche ai nostri cittadini che devono invece poter viaggiare nelle nostre strade e nei mezzi di trasporto pubblici con la più sicurezza e serenità possibile. Oltre a lasciare molti dubbi sulla ragione di questa scelta, secondo Monica Sambo la decisione del Comune è sintomo di scarsa trasparenza e incapacità a dare un segnale di unità delle istituzioni. Di nuovo la maggioranza, come ha già fatto in passato, si dimostra allergica alla trasparenza e noi continueremo con la nostra azione invece di richiesta di trasparenza, faremo tutti gli atti necessari per chiedere qual è lo stato di manutenzione delle nostre strade.